Oggi arredare significa interpretare lo spazio e progettare soluzioni personalizzate per chi le vive e chi ci lavora. Oggi nel settore dell'aredo e del design diventa fondamentale un software di grafica. Con ADA abbiamo semplificato notevolmente le relazioni tra azienda e rivenditore aumentando le prestazioni reciproche. Con ADA si lavora meglio. La flessibilità compositiva è la chiave per rispondere alle esigenze stilistiche e funzionali dei clienti e dei progettisti. L'interior design oggi diventa progettazione condivisa tra cliente e rivenditore, un rapporto dove tecnologia e digitale si combinano con ascolto e relazione per diventare habitat e racconto di vita. Nella nuova versione di ADA abbiamo introdotto delle tecnologie di intelligenza artificiale che modificano profondamente la filosofia del prodotto e ne rivoluzionano la modalità operativa dei progettisti, aumentando la loro produttività anche del 30%. Inoltre abbiamo integrato completamente la gestione di progetti tra produttore e punto vendita mediante uno strumento, lo showroom virtuale prodotto operante nel cloud.